Ma non posso che esprimere grande soddisfazione per il risultato raggiunto grazie alla collaborazione con la collega onorevole Giovanna Iacono che è stata eletta alla Camera dei Deputati nel collegio di Trapani e Grigento Caltanissetta. Abbiamo insieme verificato quali teatri potessero far parte di questo insieme di monumenti nazionali proprio perché teatri con importanti caratteristiche architettoniche, storiche, artistiche e dopo un confronto anche con gli operatori del territorio abbiamo inserito cinque teatri nella provincia di Trapani con un emendamento perché il governo e il centro-destra avevano dimenticato questi importanti teatri, in particolare il teatro Garibaldi di Mazzara, il Sollim, il teatro di Alcamo, il teatro Serinus di Castelvetrano e quello di Segesta. Quindi è un importante riconoscimento per il nostro territorio, speriamo che con questo provvedimento questi teatri possano ricevere quel supporto e quel sostegno che li può far divenire sempre più incubatori culturali del nostro territorio e perché no anche attrattori culturali, turistici e si possa in qualche modo costruire attorno a essi un'importante storia e cultura teatrale. Questo rappresenta anche un modo di lavorare, cioè lavorare insieme deputazione regionale, deputazione nazionale, territori e stakeholders significa mettere in campo una buona pratica politica. Dunque grande soddisfazione e speriamo che da questo provvedimento, come dicevo prima, possano provenire effetti positivi per il nostro territorio. Intanto questi cinque teatri sono monumenti nazionali e dunque la provincia di Trapani e le città di Mazzara, Alcamo, Calatafimi, Castelvetrano e Marsala avranno e godranno di questo importante riconoscimento. Grazie. 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 Grazie.